E' tempo di duellare ancora una volta! The King of Games, il re dei giochi Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games Oggi vi andiamo a presentare il nuovo strutture deck Dominazione Pendulum del mitico The Clan di Yu-Gi-Oh! 5 Questo strutture deck è basato completamente sui mostri di tipo Demone e in particolare sui mostri di DD Archetipo che ha ricevuto un gran potenziamento grazie a questo mazzo nuovo e quindi ha già conquistato le sfere competitive del gioco di Yu-Gi-Oh! Diventando uno dei mazzi più forti al momento nel competitivo Andiamo subito a vedere le carte inedite che ci aspettano in questo mazzo Abbiamo DD Fiero Cavaliere e DD Fiero Orco Un coppia DD Lilith DD Armageddon, re del giudizio DD Cerbero DD Sapiente Copernicus DD Sapiente Newton DD Ululato Notturno DD Siegfried, re maledetto, un sincro DD Lamia DD Ortros DD Beowulf, re flagella Draghi Una fusione DD Apocalisse, re del caos Queste ultime sono ultra rare Come magia abbiamo inedita con un tratto scuro con gli Ami Makai E DD Reclutamento e DD Re Roll come trappole Come vedete sono molte carte nuove, tantissime direi, c'è anche DD Kaiser Re Supremo Che vanno a comporre il mazzo Più abbiamo anche delle carte utilissime in ristampa Andiamo subito a vederle DD Sapiente Galileo DD Sapiente Cheplero Che è praticamente la base del mazzo Quella che ci va a cercare una carta con trotto scuro dal deck alla mano DD Ragnarok, re abisso dell'oblio Carta inedita fino ad ora in ristampa Prima volta che è stata ristampata Soprattutto nello strutture deck giapponese non è presente Quindi a noi ci hanno fatto un grande favore a inserirla Un'altra graditissima ristampa è quella del drago armato scuro Carta da sempre ricercata Che non è ok demone Ma comunque si sposa perfettamente con le strategie del mazzo Perché come andremo a vedere Comprando questo deck Il mazzo può bandire e modificare il cimitero come più vuole Perché evoca fusione anche bandendo i mostri riportati Grazie all'effetto delle melme E questo è davvero bello Perché così possiamo andare a evocare il drago armato scuro Più o meno in qualsiasi situazione Grefer oscuro Utilissimo a mandarci mostri oscurità Di cui ci serve avere al cimitero immediatamente Cavaliere dell'armageddon Un altro utile supporto per mandare al cimitero i mostri occorrenti alle vocazioni Arci demone trans Che ci scarta le carte dalla mano E all'occorrenza poi ci riprende anche una carta bandita Quando va al cimitero per raggiungerla in mano Curi bandito Sempre utile e piacevole per vederlo Patuglia stradale stijan Che ci evoca un mostro demone con attacco 2000 inferiore dalla mano Bandendola dal cimitero per l'appunto Sicurezza stijan Se questa carta viene distrutta in battaglia e mandata al cimitero Evoca specialmente un mostro di tipo demone di livello 1 dal tuo deck Quindi tantissimi demoni come ad esempio il Kepler o molti altri Possono essere evocati Ad esempio qui non ci sono le melmine ma possiamo andarle a trovare facilmente Nelle bustine o nel megateen uscito di recente Poi abbiamo contratto scuro con il portale Contratto scuro con il re delle paludi E contratto scuro con il re delle paludi proibito Queste sono le carte che ci fanno fondere Perché non abbiamo bisogno di polimerizzazione per fare le nostre fusioni Vi ricordo comunque che il mazzo può fare fusioni, exeed, sincro E ovviamente anche i pendulum che aiutano nelle evocazioni Quindi è un mazzo che sfrutta appieno tutti i tipi di evocazioni di Yu-Gi-Oh E questa è più o meno una cosa inedita per il gioco Sepoltura sciocca Manco a dirlo Qui c'è un movimento del cimitero non indifferente Uno per uno che ci evoca dal mazzo i livelli 1 Utilissimo Peccato che sia limitato a uno come la sepoltura Perché se no ci potrebbe giocare anche in tre copie Dato la sua forza Fascino dell'oscurità Questa carta è a tre Quindi comprando tre mazzi abbiamo tre copie di questa carta Che è davvero difficile da trovare Pur essendo comune e ben uscita in tante espansioni Eruzione oscura Che ci riprende dal cimitero mostri di 1500 o meno oscurità E qui sono tutti oscurità E rifornimenti d'emergenza Che proprio in caso di emergenza ci manda al cimitero Le nostre trappole e magie di DD che ci infliggono danni Purtroppo questo è il prezzo da pagare per fare le infusioni Recuperando altresì life points 1000 per ogni carta mandata Quindi attenzione a questa carta Può essere davvero forte E anche questa era da tanto che non veniva ristampata DDD risorse umane Contratto scuro con la strega Contratto scuro con errori Riciclaggio di contratto Yorishiro il sinistro Carta ultra rara di giudizio della luce Ristampata per la prima volta comune Fuga dalla dimensione oscura Speranza di fuga E come ultima per il nostro extra deck Oltre ad avere sincro e fusione Abbiamo DDD, Caesar, Re delle Onde Questo è il mazzo DDD Un mazzo che sorprende Io vi invito a leggere anche la guida introduttiva E tutti i consigli che vi possono dare I ragazzi di Konami Per il mazzo Questo è il tappetino in carta Qui abbiamo i consigli Importantissimo ricordare che Nel mega team Nei mega team di Yu-Gi-Oh Ci sono tantissime Carte utili per le nostre strategie Vi basti pensare a Berfomet, Merma Mulinello e Melma Necro Ma anche alle carte che si trovano Soprattutto nei team I DDD, Re Kali Yuga Il DDD, Casa Ragnarok, Re Onde dell'Oblio E il DDD, Arco, Re dell'Oracolo Tutte queste vengono trovate Sia nel team di Yu-Gi che nel team di Kaiba Senza contare che ci sono come promo Genghis e Alexander Alexander nel team di Kaiba E Genghis nel team di Yu-Gi-Oh Poi oltretutto nelle bustine Troviamo molte carte che non sono state ristampate Anche nelle ultime edizioni Quindi un mazzo assolutamente attuale Un mazzo bello da giocare Perché vi dà tante soddisfazioni Ragazzi Noi ci vediamo col prossimo video Iscrivetevi e ricordatevi Che il 10-11-12 marzo 2017 C'è il film di Yu-Gi-Oh The Dark Side of Dimensions Al cinema Nei migliori cinema Andatelo a vedere Che noi ci siamo divertiti molto A A vederlo doppiato A vederlo A farlo E soprattutto c'è stata una grande emozione Ve la racconteremo con dei video E Sono sicuro che Anche voi vi emozionerete Dopo 10 anni A rivedere i vostri eroi Al cinema Ciao E alla prossima Mi raccomando Iscrivetevi al canale E non perdetevi i nostri prossimi video The King of Games Il re dei giochi